Nelle prossime lezioni vedremo quelli che sono gli aggiornamenti delle funzioni relative ai comandi. Qui ci sono dei nuovi tools che sono stati inseriti direttamente all'interno del toolbar del TrackView Curve Editor che possono cambiare in relazione allo spazio di lavoro come layout che io vado a utilizzare. Di default, per chi è abituato a lavorare con la versione precedente, lo spazio di lavoro sarebbe questo, quindi lo spazio di lavoro che veniva richiamato nelle versioni precedenti è questo. Come osservate va a occupare uno spazio abbastanza importante perché arriviamo praticamente, eccolo qua, ok fino a questo punto, qui abbiamo un nuovo key tools TrackView che ha tutte queste nuove funzioni che sono state inserite, ma queste nuove funzioni che sono state inserite poi le troveremo lo stesso all'interno degli altri layout che sono disponibili però magari suddivise in piccole track, quindi in piccole barre che sono, queste barre che si possono anche modificare. Questo ad esempio è quello che abbiamo utilizzato prima del Buffer Curve. Qui abbiamo il Rhytime Tools che abbiamo studiato nei corsi precedenti di animazioni, quindi sono stati inseriti in questo load layout che sarebbe quello di default. Quello che noi abbiamo utilizzato prima e quello che si apre adesso sarebbe quello relativo alle Function Curve. Se osservate qui ci sono degli strumenti, ad esempio questo strumento, questi strumenti e questi strumenti erano disponibili nell'opzione per quanto riguarda la default posizionati qua in questa locazione, quindi la possibilità di scalare le tangenti, la possibilità di fare uno snaps che vedremo successivamente. Poi abbiamo il Dope Shift per chi lavora nella modalità Dope Shift in questo modo, quindi non attraverso quella che è la modalità delle curve. e poi c'è il Track Bar, anche questa è un'altra modalità che io posso utilizzare, come dire, più semplificata, Close, che è quella che poi solitamente si apre nelle interfacce di 3ds Max, quindi si può anche chiudere, perché lei viene solitamente agganciata qui sotto, vedete, eccola qua, quindi si aggancia direttamente qui sotto, oppure abbiamo la modalità Funzione Curve Classiche, che era la funzione che troviamo direttamente nelle versioni precedenti di 3ds Max, dove non è presente il Buffer Curves, dove ci sono presenti la possibilità di selezionare dei filtri, ed quindi questa è un po' alla panoramica dei nuovi layout, il layout come sempre si può salvare come nuovo layout, si possono modificare come abbiamo già visto nei corsi base, quindi ritorniamo in questo momento nella nostra curva di partenza che è questa.